L'idea secondo la quale l'amministrazione comunale di Gera starebbe lavorando per autorizzare ad un consorzio privato la realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria non ha mai avuto né mai potrebbe avere la vallo di Caltacqua, Acque di Caltanissetta, gestore del servizio idrico integrato per l'intera provincia di Sena. La nota dell'ente gestore è chiara a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa tenuta al comune e nella quale è stato illustrato il progetto del consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti. Il comune fu detto in quell'occasione ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana potrebbe acquisire in seguito l'impianto il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. Ma Caltacqua, come dicevamo, dice altro. La soluzione prospettata si pone infatti decisamente al di fuori di quanto espressamente previsto dalla Convenzione di Gestione con lato idrico CL6 che affida a Caltacqua la gestione dell'intero ciclo delle acque su tutto il territorio provinciale senza dunque prevedere alcuna possibilità di deroga men che meno offre la possibilità di creare aree dove, come nel caso prospettato, un soggetto si occuperebbe della distribuzione idrica senza alcuna garanzia in ordine alla gestione del reflui e del servizio di depurazione. La società precisa inoltre che le uniche tariffe applicabili all'utenza sono quelle determinate dal lato idrico CL6 in ottemperanza al metodo tariffario emanato dalla competente autorità nazionale e dunque non è possibile, come affermato dal Presidente del Consorzio Piano Marina, applicare ai soli residenti del quartiere di Manfria delle tariffe differenti rispetto alle tariffe che il gestore applica secondo l'articolazione tariffaria vigente e nel rispetto delle norme nazionali a tutti gli utenti della provincia di Caltanissetta dando luogo a difformi trattamenti nei confronti dell'utenza. Sorprende, aggiunge Caltacqua, che si stia lavorando ad una simile soluzione dopo che nelle scorse settimane si era svolto l'ennesimo incontro tra Caltacqua, Atoidrico CL6 ed Amministrazione Comunale volto all'individuazione del miglior percorso per superare finalmente quegli ostacoli tuttora esistenti che sin dal 2008 stanno paralizzando il progetto per la realizzazione della nuova condotta di Manfria un progetto che Caltacqua ha già pronto da 8 anni e da allora è ancora in attesa del perfezionamento del leader burocratico da parte del Comune di Gela per l'acquisizione delle aree piuttosto che inseguire improbabili soluzioni fai da te Caltacqua auspica che il Comune di Gela e gli altri enti territoriali direttamente coinvolti diano seguito a quanto era emerso nel corso delle ultime riunioni superando definitivamente quei residui ostacoli a cominciare dall'aggiornamento delle stesse mappe cadastrali di alcune delle aree interessate per sbloccare definitivamente il progetto esistente riguardante la rete idrica e con questo altri interventi